Torna a salire la curva del contagio in provincia di Arezzo a pochi giorni dalla fine dello stato di emergenza e purtroppo si torna a contare anche un decesso. Dopo il classico calo del lunedì, infatti, nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 711 nuovi casi, un dato che emerge dal controllo di 4.056 tamponi, di cui 737 molecolari e 3.328 antigenici rapidi. Nelle ultime 24 ore l'azienda sanitaria ha poi dichiarato guariti 721 aretini. Attualmente sono 4.875 le persone ancora positive, mentre 784 quelle che si trovano in quarantena perché contatti di caso. Cresce inoltre anche il numero complessivo dei ricoverati al San Donato. All'ospedale Cittadino ci sono 29 pazienti, di questi 1 in terapia intensiva. L'azienda sanitaria informa anche che tanto in bolla covid quanto in rianimazione circa il 60% dei ricoverati non è vaccinato ed è ceduto infine all'ospedale Cittadino un uomo di 88 anni, vaccinato e con gravi patologie e pregresse.